ciao a tutti e benvenuti nel mio canale oggi vi voglio riproporre una ricetta che ho visto in un canale youtube precisamente nel canale di Heidi Channel una ricetta fatta con con l'acqua dei ceci andiamo a fare delle meringhe con l'acqua dei ceci grazie a Heidi di questa ricetta vi lascio il suo link nell'info box se vi piace il mio video un like naturalmente iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ciao e al prossimo video ciao iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale